ehi i rospi si muovono perché questi rospi non ci lasciano passare ma manca ancora qualcosa cos'è che manca ancora? quegli alberi e della frutta dove posso trovare? è davvero complicato ma manca ancora qualcosa? che cosa manca? ma manca ancora qualcosa? che cosa manca ancora? ignora che vuole ascoltare la musica mentre rapina la barca d'acqua abbiamo una maschera, una barca, le pinne e una bombola d'ossigeno ma manca ancora qualcosa? cos'è che manca ancora? da cosa siamo vestiti? siamo vestiti da poliziotti? sì! noi tre siamo i po-